Vi abbiamo chiesto di segnalarci situazioni di rifiuti abbandonati o gettati in modo irregolare ed è bastato lanciare questa proposta perché le segnalazioni arrivassero davvero numerose. Noi intanto siamo andati di persona in via Martiri del Grappa, San Giacomo di Romano, dove abbiamo trovato una situazione grave, ma altrettanto grave, e quella sul tornante della strada che da Caluga porta a Contra Vallison, dove la signora Iole, ironicamente, ringrazia la persona che ha pensato bene di scaricare le proprie immondizie vicino a casa sua. E poi il quartiere Merlo di Bassano, dove all'alba sono stati abbandonati dei sacchi contenenti gli scarti della pulizia di un orto o di un giardino. Inciviltà dilagante anche lungo la pista ciclabile a fianco della ferrovia, con erbaccia e immondizia abbandonata. Ormai quotidiane le vostre segnalazioni che ci arrivano dal quartiere Rondò-Brenta, dove è intervenuta la polizia locale del Bassanese, che ha sanzionato quattro persone, tre uomini e una donna della zona, che avevano il badge di accesso, per loro 100 euro di multa a testa, ritenuti responsabili. Di aver abbandonato i rifiuti all'esterno degli appositi press container. Infine altri rifiuti ancora a Bassano, poco fuori dal centro. Inciviltà che merita una risposta forte dal sindaco Pavan, dall'amministrazione e dalle forze dell'ordine. Noi continueremo a dare voci ai cittadini.